Musica Eccoci qua in uno dei quartieri generali di Landog, vittima degli eventi, con Dylan, vogliamo dirlo subito, Claudio Di Piaggio e Luca Vecchi, a che punto siamo, come sta andando, a che punto è il montaggio di Landog, vittima degli eventi, che è la vostra nuova produzione? A livello di fase siamo nella post-produzione avanzata, abbiamo fatto il montaggio, il premontato, quindi abbiamo tirato fuori il film, tra virgolette, e adesso siamo nella fase in cui c'è da portare tutte le modifiche di... Esatto, che un film di genere vuole. La cosa che è bella è che abbiamo chiuso la seconda campagna ormai, tipo 12 giorni fa, 13 giorni fa, infatti stiamo per avvertire tutti, perché giustamente abbiamo... La campagna di raccolta fondi su Indiegogo. La seconda campagna di raccolta fondi che ci ha permesso di raggiungere il budget che noi volevamo per questo film. La cosa molto bella è stata, innanzitutto, avere tutta la partecipazione delle persone che non hanno smesso un attimo di crederci, anzi hanno donato magari anche due volte, prima e nella seconda campagna, insomma, questo progetto ha veramente smosso il web. Quindi quando uscite? Non si può dire. Salvo imprevisti, verso aprile. Fine. Finiamoci larghi. Fine aprile 2015. Più che altro è stata aggiunta una scena in apertura che è più congeniale al canonico personaggio di Dylan Dogg, c'è anche molta più azione, per includere una componente maggiore dal punto di vista orrorifico. Abbiamo scelto di fare una sorta di regalo, se vuoi, alle persone, aggiuntivo, perché hanno molto creduto nel progetto e quindi perché no? Cioè fare in modo che la presentazione del personaggio di Dylan Dogg fosse veramente ad hoc e fosse veramente come in un fumetto. Quindi abbiamo aggiunto questa cosa che è un po' fuori dalla storia e che viene prima, quindi è una sorta di prologo e vediamo un po' come andrà. La cosa che è venuta fuori da questo film è un Dylan Dogg nuovo ma allo stesso tempo che ha dei canoni classici, come vogliono tutti quelli che leggono il fumetto. Ovviamente noi non possiamo deludere il fan, nel senso che sicuramente il fan cercheranno delle espressioni che Dylan Dogg usa, cercheranno dei personaggi, delle location, dei modi di fare un mood, degli oggetti, proprio al suo personaggio. Esatto, però quello che noi abbiamo potuto fare, ci ha permesso sia l'attore che il film in sé, è quello di aggiungere qualcosa di nostro, non solo nella sceneggiatura e nella regia, ma anche proprio nell'universo di Dylan Dogg. Perché, come diceva Luca, è un po' da svecchiare, ma non perché fosse sbagliato quello, perché io adoro i primi numeri di Dylan Dogg, ma semplicemente perché sono passati 30 anni, il mondo è cambiato, l'Italia è cambiata e quindi un personaggio che vive in un contesto come questo deve cambiare, deve evolversi. Dylan Dogg che vive il precariato, capito? Dylan Dogg è un coglione no, capito? Esatto, esatto. Cioè una di quelle persone che fondamentalmente sa fare solo quello e quindi anche se lo odia, un po' odia la sua mansione perché è l'unico a svolgere quella tipologia di lavoro ed è molto che non lavora. Soprattutto la fa da 30 anni, cioè la cosa assurda di Dylan Dogg è che vive in questo universo sempre uguale a se stesso, nel senso che fa in modo da 30 anni di risolvere sempre lo stesso caso alla fine, e rimane in un loop continuo. Quello che non è possibile che sia è questo, nel senso non può andare avanti così all'infinito. Quindi l'abbiamo messo in una situazione in cui smette per tot tempo di lavorare e fa in modo che questo bisogno lavorativo lo spinga anche a fare delle scelte diciamo fuori dalla sua etica. Porte che scricchiolano, luci che si spengono, ombre sui muri, tu che corri in un vicolo, grucio la pistola! Grucio per favore stiamo lavorando dai! La cosa che per esempio ci tengo, ci teniamo a dire è che tutti i soldi che sono arrivati hanno coperto il budget, nel senso che l'importante quando tu fai un no profit è di non lucrare, cioè nel senso che è importante che tu i soldi che prendi non c'hai un guadagno te, nel senso che vai oltre le spese del budget. La cosa bella è che tutte le persone erano felici perché hanno fatto la scelta di essere su quel set, è la cosa che invece contrattistimo che appunto un set come quello di Dylan Dog da al set canonico del cinema, nel senso che è un set dove ci stai perché ce lo vuoi stai e non è sempre così nel cinema. Molto molto interessante, glielo spieghi tu alla creatura che sta arrivando? Grucio la pistola! C'è un sacco di gente che gli è piaciuto Dylan Dog e Vittoria Negli Eventi che mi è anche uscito, quindi come voi che avete donato, quindi quella è una cosa fantastica, ci saranno delle novità che vi comunicheremo perché tante persone si sono avvicinate, vogliono avvicinarsi al progetto e vogliono sostenerlo, quindi questa è una cosa fantastica e insomma vediamo un po' quello che succederà. Ciao Fanpage! Linea allo studio! Linea allo studio, ciao!